Crescono i casi di intossicazione da funghi, 9 ad Arezzo solamente nell'ultima settimana ed il trend è in aumento. Per questo l'ispettorato dell'Asla Toscana Sud-Est torna a ribadire l'importanza di fare affidamento al servizio di sportello micologico che ogni anno in questo periodo l'azienda mette a disposizione dei cittadini che raccolgono funghi. Il servizio gratuito degli sportelli, distribuiti su tutto il territorio dell'azienda sanitaria e attivi fino al 4 dicembre 2020, rilascia infatti un giudizio di commessibilità sui funghi raccolti e vi si accede previo appuntamento telefonico. L'ispettorato micologico, struttura del Dipartimento di Prevenzione, è composto da dei tecnici che in caso di accesso al pronto soccorso per intossicazione collaborano con i sanitari cercando di risalire dai sintomi alla specie responsabile dell'avvelenamento in modo che il medico possa velocemente applicare l'idonea terapia prevista. Il ricorso alle cure mediche avviene in particolare quando funghi commestibili, come ad esempio i porcini, vengono consumati in abbondanza o in cattivo stato di conservazione, quindi si raccomanda ancora una volta di consumarli solo quando in perfette condizioni, cuocerli bene e non mangiarne in quantità eccessive o a pasti ravvicinati. È infine sempre consigliato di non somministrarli mai a persone affette da patologie al sistema digerente, donne in stato di gravidanza e bambini ed anziani. I casi di avvelenamento sono invece provocati da specie tossiche, spesso scambiate per altre commestibili. Infine l'ASLA ricorda che è importante evitare qualsiasi consumazione di funghi non conosciuti o che presentano caratteristiche diverse dal consueto aspetto nel colore e nell'odore e di non affidarsi a presunti esperti. Per ogni dubbio i micologi sono disponibili ad indicare anche le modalità appropriate di preparazione e cottura dei funghi.